Siamo nel Purgatorio al canto ventinovesimo. Sappiamo che Virgilio e Dante sono arrivati al fiume Lete. Il fiume Lete è quel fiume presso il quale si beve e ci si dimentica quindi di tutti i peccati passati dopo essere trascorsi dunque attraverso la purificazione che è avvenuta sulle cornici del Purgatorio. Su questa riva Dante incontra un personaggio abbastanza misterioso. E' un personaggio che è stato introdotto già nel canto ventottesimo ed è Matilde. Chi sia questa Matilde non lo sappiamo. I critici hanno proposto, ipotizzato tante possibilità. Matilde potrebbe essere la contessa Matilde di Toscana, particolarmente devota e legata alla Chiesa, ma un'interpretazione di questo genere mi lascia un po' perplesso. Matilde altri critici la vedono nella vita attiva, sapete i due personaggi, no? Marta e Maria. Quindi Marta, la donna che serve Gesù e che si lamenta presso Gesù del fatto che Maria stesse lì ad ascoltarlo e lei fosse delegata a portare a termine tutti i lavori. Ricordate anche la risposta di Gesù. Maria ha scelto la parte migliore. Non vuol dire con questo che Marta si trovasse nel male o nell'errore. perché questa interpretazione estrema è in bocca molto spesso a chi non capisce niente di questa parabola. C'è una cosa migliore, c'è una soluzione migliore, ma non vuol dire che l'altra soluzione non sia ugualmente buona. Ed è la soluzione del servizio, del servizio ai fratelli, servizio attivo. Ma forse, forse, Matilde è semplicemente una donna che abbiamo, una delle donne incontrate in vita nuova nell'opera di Dante o semplicemente una reminiscenza di qualche donna che Dante, nella prospettiva stilnovista, ha incontrato nella sua giovinezza. Al di là di tutte queste possibilità, ecco, anche solo per capire chi potrebbe essere questa donna, incominciamo a leggere, ricordandovi sempre qual è il mio sistema. Voi vedete, lo dico tutte le volte, però non posso sapere se chi legge, chi ascolta, o anche legge evidentemente, che ascolta per la prima volta un mio video sul Dante ne ha già ascoltati altri. Quindi ricordatevi che là dove trovate TR abbiamo un troncamento, FING, col finire, con la fine della sua qui abbiamo un troncamento. Vedete che in altre abbiamo una A, è una nastrofe, cioè un'inversione della costruzione, un'inversione abbastanza semplice, perché vedete, per le selvatiche ombre, disgiando qual di vedere, qual di fuggire il sole, come ninfe che si ingiva al sole, per le selvatiche ombre, si può intravedere un'anastrofe, e l'anastrofe è per le ombre selvatiche. In italiano si mette prima il nome e più l'aggettivo. Quando invece l'inversione è molto più complessa, allora io la spiego ed è l'iperbato, non si troviamo nell'anastrofe. Poi abbiamo anche la Jean Bema, rappresentato dalla Ilunga, allora si mosse contro il fiume andando su per la riva. Vedete che la proposizione non termina col verso, ma termina nel verso successivo. Ora, di fronte ad esempio qui ci sono quattro troncamenti, qual veder, qual fuggir, io troncamenti, anastrofe e a Jean Bema, li lascio a voi. Voi potete fotografare il video e quindi, in qualche modo, stampare la fotografia. Per il resto vediamo assieme. Parliamo di questa donna, no? Cantando come donna innamorata, ecco perché si pensa al dolce stil novo e alla produzione stil novista della vita nuova di Dante, continuò col fin di sue parole. Beati quorum tecta sum peccata. C'è una similitudine, Matelda canta con gioia, spensieratamente felice, come una donna innamorata. e la fine delle sue parole continuò così. Quindi è la conclusione. Abbiamo il plurilinguismo dantesco perché viene riportato una proposizione tutta in latino. Beati quorum tecta sum peccata. Qui c'è sottointeso un sunt ei. Beati sono coloro di cui sono stati cancellati tecta sum peccata i peccati. Effettivamente Dante è arrivato sul pianoro del paradiso terrestre. Finalmente, dopo l'iter, il viaggio attraverso l'inferno, attraverso il purgatorio, i suoi peccati sono stati cancellati nella consapevolezza dell'errore nel quale Dante era caduto. Perché se non c'è consapevolezza e se non c'è consapevolezza perché non c'è umiltà, ricordatevi il primo canto del purgatorio, non si può neanche passare alla tappa successiva. E come Ninfe, che si givano sole per le selvatiche ombre disiando qual di vedere qual di fuggire il sole, allora si mosse contro il fiume andando su per la riva e io pari di lei piccio il passo con piccio seguitando. Di nuovo abbiamo una similitudine e come delle Ninfe. Givan deriva da ire, andare, dove ire al plurale è imperfetto, fa ivan. Voi sapete che molto spesso la bi diventa vi. poi oltretutto abbiamo un troncamento. Quindi come Ninfe che andavano al sole attraverso le ombre selvatiche e un latinismo dalle silve attraverso le ombre dei boschi desiderando una di vedere il sole, l'altra di fuggirlo, ricordatevi desiando che deriva da desiderium, la ider cade e rimane desium, no? Desium che poi diventa desiu che diventa desio come sostantivo ed è lì il verbo desiando. Come queste Ninfe una lunga similitudine Matilde si muove contro il fiume cioè risalendo la corrente del fiume naturalmente dall'altra riva. Infatti lo dice andando su per la riva. E io pare di lei pare vuol dire uguale e io ugualmente a lei. Seguitando picciolo passo col picciolo passo. Forse picciolo non c'è la sicurezza deriva da puntulum che vuol dire piccolo punto piticulus quindi potrebbe essere inteso questo c'è poi c'è l'olus che è il tipico suffisso latino per indicare un diminutivo passetto per passetto non seguitando passetto per passetto. Questa ripetizione picciol picciol può essere un epanalessi. Questa derivazione latina non è sicura però io ho messo un forse. non erano cento tra i suoi passi e i miei quando le ripe ugualmente di ervolta per modo calevante mi rendei. Non avevamo ancora fatto cento passi tra me e lei quindi sostanzialmente erano andati avanti per cinquanta passi non di più. Quando le ripe ripa latino quando le rive di questo fiumiciatolo perché sappiamo che è largo in base al canto precedente non più di tre passi diedero quindi diedero volta volta veniva da volgere voltare si voltarono in modo che mi rendei a Levante rendei reddere vuol dire anche dirigere se mi diressi verso Levante cioè verso Oriente né ancora fu così nostra via molta quando la donna tutta a me si torse dicendo frate mio guarda e ascolta questo ancora ricordatevi sempre che deriva da Oram fino a quest'ora quindi fino a quel punto non avevamo ancora fatto molta strada nostra via non fu così molta vedete che c'è una nastrofe quando a Matilde da torco a rivolgere si volse tutta verso di me dicendo frate mi pare che questa è chiara deliberazione latina o fratello mio fai bene attenzione e le tue orecchie i tuoi occhi siano attenti a quello che stai per vedere allora a questo punto inizia una lunga digressione che per me è molto bella oggi non abbiamo tempo di cogliere certe bellezze letterarie questo è lo stile tipicamente apocalittico con allegorie così spesse non nella contenuto ma nella forma perché l'apocalisse normalmente tratta come argomento della fine dei tempi ma tratta della fine dei tempi con tante allegorie con simboli con metafore e il medioevo si trovava perfettamente in sintonia con questo sentire laddove però l'allegoria il simbolo la metafora si arricchivano di verità bibliche teologiche filosofiche esistenziali che davano una profondità all'espressione artistica che oggi invece secondo me si manifesta poverissima poverissima di tutto c'è chi quando si parla di apocalisse qualche ignorante che dice i fuochi d'artificio non sono fuochi d'artificio è un genere letterario ed è un genere letterario che adotta tutta una serie di sistemi che sono particolarmente profondi vediamolo un po' ed ecco un lustro subito trascorse da tutte parti per la gran foresta tal che di balenar mi mise in forse cos'è il lustro? il lustro deriva dal latino lustrare illuminare luce bagliore e trascorrere da trascorrere passare veloce ecco che allora una luce improvvisamente passo veloce e percorse tutte le parti della grande foresta tale questo balenar greco da valev non saetta vuol dire saetta e dal diaretto toscano diventa valecenare vuol dire apparire sparire improvvisamente il baleno fa così no? dunque tal che questo baleno mi mise in attesa in attesa in questo baleno c'è qualcosa di particolare però abbiamo detto che il baleno normalmente come appare così scompare pensate ad un fulmine no? qui invece questa luce si presenta con altre caratteristiche ma perché il balenar come viene resta e quel durando più e più splendeva nel mio pensiero dicea che cosa è questa? ma visto che un baleno il tipico baleno del fulmine come viene resta da restare cessa quello invece durava e più e più splendeva io mi chiedevo nel mio pensiero che cos'è questo miracolo dicea caduta della viale la viale e non ho visto qui ma penso che lo vedete anche voi c'è anche un troncamento pensiero dentro di me quindi pensavo in questo modo e una melodia dolce correva per l'are luminoso onde buon zelo mi fè riprender l'ardimento d'eva che là dove obbedìa la terra e il cielo femmina sola e pur testè formata non sofferse di star sotto alcun velo sotto il quale se di vota fosse stata avrei quelle ineffabili delizie sentite prima e più lunga fiata dunque ricordatevi sempre del significato di dolce utilizzato tantissimo da Dante e una melodia dolce una melodia soave gradita piacevole correva aere di nuovo latino per tutta l'aria risplendente onde il mio zelo zelo da latino zelo ardore desiderio ardente di fare di dire oggi sembra quasi che quando uno si rifà alla parola zelo deve vergognarsi lo zelo invece è il desiderio ardente di fare di dire bene onde il mio zelo mi fece riprendere l'ardimento d'Eva mi fece riprendere il peccato di Eva fe è una sincope mi fece riprendere il peccato di Eva quell'ardimento che andò contro le disposizioni divine perché laddove terra e cielo ubbidivano al loro creatore ubbidia di nuovo è un vocabolo dove cade la labiale v le donna sola quindi non sollecitata né da invidia né da altro e oltretutto formata nella perfezione della creatura che era appena uscita dalle mani di Dio testè latino anteistum prima di codesto appena quindi appena formata non soffersse da soffero no non sopportò non accettò di stare sotto alcun velo velo è una metafora e qui il velo si intende obbedienza sotto il quale se fosse stata divota divota da devovere sottomettersi alla divinità io avrei potuto sentire prima quelle delizi ineffabili notate quando io vi metto le parole in corsivo vuol dire che là è presente un anastrofe o un iperbato avrei sentite prima quelle delizi ineffabili e più lunga fiata fiata in latino procede da via via diventa viata e da viata fiata viata vuol dire andata e tornata e così per traslazione metaforica si assume il significato di tempo e quindi è per più lungo tempo quindi sostanzialmente Dante dice se Eva se Adamo fossero stati obbedienti non ci sarebbe stata non ci sarebbero state tolte queste delizie e io le avrei potuto conoscere prima mentre io andava tra tante primizie dell'eterno piacere tutto sospeso e disioso ancora più letizie dinanzi a noi tale quale un fuoco acceso ci si felaere sotto i verdi rami e il dolce suon per canti era già inteso mentre io così andavo tra queste primizie le primizie da primitus per la prima volta le primizie diventa poi primizie latino voglio dire i primi frutti quindi le prime gioie che vanno che giungono agli occhi al gusto all'udito di Dante qui c'è un iperboto abbastanza complesso mentre io andava tutto sospeso tra tante primizie del piacere eterno e disioso ancora più letizie e desideroso di conoscerne ancora maggiori dinanzi a noi tal quale un fuoco acceso abbiamo una similitudine il fuoco acceso è il colore rosso quindi c'è una similitudine e c'è un iperbato vediamolo assieme l'aere l'aria latinismo si si fece a noi fe una sincope tale quale un fuoco acceso l'aria diventò rossa rosseggiò sotto i verdi ravi del bosco e questo inteso da intendere intendere vuol dire tendere la mente verso qualche cosa quindi vuol dire comprendere capire cogliere e il dolce suono il dolce canto era già colto dalle mie orecchie dal mio udito a questo punto Dante si ferma per invocare le muse vedete la perfetta sintonia tra il passato e il presente tra la tradizione pagana e quella cristiana quindi trovandosi già questa invocazione se voi ricordate c'era stata nel primo canto del purgatorio ora le cose si fanno ancora più difficili ci sarà di nuovo un'invocazione nel primo canto del paradiso in modo particolare ad urania cioè la musa che ispira i cantori delle cose celesti affinché le parole di Dante siano adeguate all'oggetto del canto ed ecco qui o sacrosante vergini se fami freddi o vigiglie mai per voi soffersi cagion mi sprona ch'io mercè vi chiami vergini per antonomasia le muse o vergini sante se e qui c'è un iperbato se mai ho sofferto per voi fami freddi e vigilie perché ma perché uno si chiede perché deve soffrire per le muse fame freddo e veglia vigilia latino veglia ma perché la cultura lo studio non è fatta non è fatto di battute per capire per comprendere ma poi in modo particolare per produrre artisticamente o anche solo filosoficamente teologicamente scientificamente ci vuole un impegno è un modo di intendere le cose all'opposto di quello di oggi fatto di slogan ma gli slogan sono vuoti gli slogan si perdono come fumo e di questi slogan fra 700 anni ma direi anche fra 50 anni nessuno più si ricorderà nulla il poema invece di Dante rimane quindi se io ho sofferto per celebrarvi fame freddo e veglia bene cagion mi sprona che io vi chiami a mercè mercè mercede c'è una sincope quindi la ragione c'è una ragione da cagion da latino occasione ma ragione c'è una ragione che mi sprona a chiedere a voi mercè mercede favore grazie aiuto a chiedervi aiuto or convien che è l'icona per me versi e uranie ma aiuti col suo coro forti cose a pensar mettere in versi ora è opportuno che l'icona l'icona è dove nella mitologia classica vivono le muse e quindi c'è una metonimia il luogo al posto delle muse quindi l'icona per me versi le acque dell'ispirazione vuol dire quindi abbiamo anche una metafora che io mi sono dimenticato di scrivere metafora metafora le acque dell'ispirazione e in modo particolare la musa urania mi aiuti con tutte le altre muse con tutto il coro delle muse celesti ricordatevi sempre che urania è la musa della poesia celeste a mettere in versi cose forti a pensare mi aiuti a mettere nei versi cose forti fortes latino ha tanti significati ma vuol dire anche grandi difficili difficili anche solo ad essere pensate io non solo le devo pensare ma le devo portare ad una materialità ad una concretezza ecco allora che le immagini allegoriche contrariamente agli sproveduti non sono fuochi d'artificio sono quelle stesse immagini che aveva usato Platone laddove è difficile in qualche modo concretizzare comunicare comunicare un pensiero un pensiero che è talmente profondo talmente elevato che ha bisogno per la materialità degli esseri umani di essere calato in immagini di lì viene fuori il mito platonico di qui viene fuori l'allegloria dantesca di qui vengono fuori le immagini apocalittiche poco più oltre sette alberi d'oro falsava nel parere il lungo tratto del mezzo che era ancora tra noi e loro più oltre il lungo tratto del mezzo che era ancora tra noi e loro falsava nel parere sette alberi d'oro quindi il lungo tratto del mezzo il lungo tratto di spazio che c'era tra noi io e Matilde e loro falsava nella parere parere latino l'immagine di sette alberi d'oro ma quando di fui si presso di l'or fatto che l'obietto comunque il senso inganna non perdea per distanza alcun suo atto la virtù caragion discorso amman siccome egli erano candelabri apprese e nelle voci del cantare osanna il principio è questo il principio aristotelico spesso la distanza sono principi che poi vennero ripresi da tutto l'empirismo la distanza può ingannare la conoscenza se io l'esempio classico che viene proposto la luna se io guardo la luna in cielo mi pare di vedere un disco in realtà non è un disco ma è un pianeta una sfera eccetera quindi la distanza può ingannare i nostri sensi ma quando io fui si presso presso deriva da premere accostarsi del participio passato che mi da pressus accostato quando io mi fui accostato al punto così a loro quindi quando io mi fui fatto vicino a loro in modo che l'oggetto comune che inganna il senso obiectum oggetto quindi la cosa comune che può ingannare il senso non perdeva alcun suo atto per la distanza perdeva una caduta della labiale atto da agere fare participio passato attus nessuna nessun aspetto direi no per la distanza quindi quando io mi avvicinai a questa processione e la vicinanza mi permise di cogliere effettivamente tutto quello che era così come si presentava la virtù quindi la forza virtus latina che ammanna ammanna da latino ammanna poi probabilmente deriva dal manda dall'ebraico e ammanna vuol dire porzione che poi da ammanna diventa ammannare riunire le porzioni preparare allora la virtù che prepara il discorso alla ragione cosa fece? apprese con lì sottinteso lì apprese lì comprese come candelabri non erano alberi erano candelabri così come erano appunto e sottinteso apprese in quel canto nel cantare quelle voci del cantare apprese che cantavano osanna allora i candelabri il numero sette è un numero significativo vuol dire completezza e qui cominciamo a vedere una una relazione tra l'apocalisse di Giovanni e il libro di Ezechiele in Giovanni ci sono sette chiese gli angeli che parlano alle sette chiese e sette qui sono i candelabri e vorrebbero rappresentare i doni dello spirito santo i doni dello spirito santo che sono sapienza intelletto consiglio fortezza scienza pietà timore di Dio guardate di non cogliere questi vocaboli nel senso comune hanno un altro senso nella prospettiva dello spirito santo bisogna evidentemente approfondire il significato di ognuno e i sette candelabri vengono dedotti dalle sette chiese dell'apocalisse il sette è il numero che dà il senso della completezza della totalità allora Dante scopre che non sono tre alberi ma sono non sono sette alberi ma sono sette candelabri di sopra fiammeggiava il bello arnese più chiaro sai che luna per sereno di mezzanotte nel suo mezzomese di sopra a questo ai candelabri chiamati comunemente arnese fiammeggiava una luce ancora più chiara di quella della luna nel plenilugno dire la luna nel sereno di mezzanotte nel suo mezzomese è evidentemente una perifrasi che equivale a plenilugno io mi rivolsi attenzione che è l'ultima volta io mi rivolsi d'ammirazione piena al buon virgilio e adesso mi rispose con vista carca di stupor non meno è l'ultima volta che Virgilio chiedante vede Virgilio la volta successiva si volgerà di nuovo a Virgilio ma Virgilio non sarà più presente perché il suo ruolo è terminato è terminato il ruolo che poteva avere la ragione io mi rivolsi pieno di ammirazione a Virgilio ma questa volta Virgilio non dà una risposta ne riesce a dare una spiegazione perché anche lui è pieno di ammirazione ed esso mi rispose con vista vista da viso sguardo con uno sguardo carico di uno stupore non meno inferiore in questo stupore si può vedere la meraviglia ma si può anche vedere la sofferenza di Virgilio consapevole di essere escluso per sempre da questa vista indi rendei l'aspetto ad altre cose che si muoviono incontro a noi si tardi che foran vinte la novelle e le spose indi rendei l'aspetto da spicio sguardo quindi volsi lo sguardo alle altre cose che si muovevano incontro a noi ma così lentamente tardi da tardus lento ma così lentamente che sarebbero state vinte da spose novelle è una similitudine la dove le spose lentamente lasciano la casa dei loro genitori per dirigersi verso il loro sposo novelle da novellus nuovo e foran ricordatevi che il verbo essere al congiuntivo in perfetto oltre a fare essere per cui vuol dire sarebbero come sarebbero vinte le spose novelle la donna mi sgridò perché purardi si nell'affetto delle vive luci e ciò che vien di retro a lor non guardi pur anche qui da latino pure semplicemente la donna mi riprese Matilde perché ti limiti semplicemente a contemplare le vive luci il tuo affetto affetto il tuo sentimento da affetto latino sentimento è tutto preso da quella luce e non guardi qui un altro iperbato ciò che viene dietro a loro genti vidio all'or come all'or duci venire appresso vestite di bianco e tal candor di qua giamai non fuci vidi all'ora come guide dux ducis guide no? latino come guide di questa processione venire appresso l'abbiamo già visto aprimo appresso premere contro quindi venire vicine tutte vestite di bianco e il candore di questo bianco di qua in questo mondo mai ci fu mai io ebbi a poterlo contemplare ricordate le vestite di bianco che è segno di purezza di pace è segno sacerdotale che ci dà il vi ricordate la caligine l'opposto del nero della caligine che ci dà il senso della condizione virginale virginale non dal punto di vista di vergine puramente materiale ma virginale cioè una coscienza pura ormai sgombera da ogni cattiveria e da ogni malvagità l'acqua splendea dal sinistro fianco e rende a me la mia sinistra costa si io riguardava in lei come specchio anco intanto l'acqua splendeva caduta dalla labiale dal a sinistra dal mio fianco sinistro e rende da reddevat e rifletteva vedete che c'è anche di nuovo una caduta di una labiale e rifletteva a me e rifletteva a me la mia sinistra costa il mio lato sinistro costa latino vuol dire costola quindi una sineddo che la costola sta per il tutto quindi tutto il mio lato sinistro se io mi rivolgevo a guardare quest'acqua come specchio anco di nuova d'ancorami in quel momento quando io dalla mia riva ebbi tal posta che solo il fiume mi facea distante per vedere meglio ai passi diedi sosta e vidi le fiammelle andar davante lasciando dietro a sé l'aere dipinto e di tratti pennelli avevano sembiante quando io ebbi tal posta dalla mia riva posta e pone reposito sul dire luogo ebbi una posizione tale dalla riva che solo il fiume caduta di nuovo dall'arrabiale mi si frapponeva mi faceva distante quindi da quella processione diedi sosta ai miei passi un iperbato per poter vedere meglio mi fermai per vedere meglio vedete che c'è anche una perifrasi sostanzialmente invece di dire i miei passi di sosta non si poteva dire mi fermai semplicemente e vidi queste fiammelle che ardevano dunque vidi le fiammelle andare davanti sì e vidi le fiammelle che precedevano la processione andavano davanti lasciare dietro a sé l'aria aere latinismo come dipinta da dei tratti di pennello questo dipinto diamo la forma proprio letterale avea un sembiante avevano l'aspetto di tratti di pennello avea di nuovo caduta dalla labiale oltre a esserci nell'anastrofe vedete avevano sembiante di tratti di pennello abbiamo dovuto fare una costruzione oltre al troncamento aveano sì che lì sopra rimanea distinto di sette liste tutte in quei colori onde fa l'arco il sole ed eglia il cinto così sopra l'aria rimaneva distinta divisa in sette liste uguale a quei colori che il sole fa l'arco ossia di quei colori dell'arco valeno vedete che c'è di nuovo una perifrasi e di quei colori che fanno che delia fa del suo cinto cioè del suo alone il cinto cingere cinto cinto alone quindi gli stessi colori dell'arco valeno e dell'alone della luna questi ostendali indietro erano maggiori che la mia vista e quando a mio avviso dieci passi distavano quelli di fuori ostendali da estendere distendere diventano stendardi queste luci che passano assumono il valore di una metafora sembra che creino dei degli stendardi quindi questi abbiamo detto queste liste paragonate a degli stendardi si muovevano dietro lasciavano una scia maggiore che la mia vista più alta più lunga di quello che la mia vista potesse cogliere e a mio avviso le due liste di fuori quei di fiori di quei di fuori distavano dieci tipicamente decem latino distavano dieci passi sotto così bel ciel com'io diviso ventiquattro signori a due a due coronati venian di fiore da riso incominciano le allegorie perché le allegorie dei candelabri sono ancora abbastanza semplici qui incominciano delle allegorie che vogliono in qualche modo essere di fondamento al trionfo della chiesa non stiamo parlando della chiesa peregrinante quindi carica di difetti stiamo parlando della chiesa trionfante della gerusalemme celeste di cui tante volte ha parlato agostino e tante volte la ritroviamo nell'apocalisse di giovanni la chiesa trionfante che si fonda innanzitutto sulla parola quindi l'allegoria in modo particolare si sviluppa su due linee ben precise da una parte i testi i libri che costituiscono la bibbia dall'altra le virtù che dovrebbero suscitare l'opera l'azione e suggerire il meglio a coloro che hanno accolto la parola quindi le virtù teologali e le virtù cardinali questi sono questo super giù a grandi linee è il costrutto che adesso siamo sul punto di cogliere quindi sotto così bel ciel come io c'è sottointeso ho mostrato diviso quindi dopo questo cielo dimostrato che io vi ho raccontato diviso da questi standardi da queste liste ecco 24 signori venian a due a due coronati di fiordaliso chi sono questi signores sono vecchi termine latino il fiordaliso è il giglio simbolo di purezza allora i 24 signori sono i 24 libri dell'antico testamento un numero che Dante probabilmente coglie dall'apocalisse il fiordaliso è il giglio che sappiamo rappresentare la purezza e qui vuole in modo particolare mettere in evidenza la purezza della parola che è stata testimoniata dai profeti nei secoli precedenti alla nascita di Cristo tutti cantavano benedicta tue nelle figlie d'Adamo e benedette siano in eterno le bellezze tue io potrebbe esserci una panarese non l'avevo vista non l'ho scritta c'è una ripetizione di benedicta e benedette benedicta notate una parola tipicamente latina il prolinguismo dantesco tutti cantavano c'è un troncamento e sono questo benedetta tu tra le figlie di Adamo sono le parole di Gabriele quando si rivolge a Maria ave Maria benedetta fra tutte le donne e benedette in eterno siano le bellezze tue sono le parole del Magnificat pronunciate io sarò benedetta fra tutte le genti tutte le genti mi diranno beata e sono le parole che troviamo appunto sempre nei Vangeli in questo caso non più dette dall'angelo ma dette dalla stessa Maria di fronte a Elisabetta e qui probabilmente queste parole vengono predicate vengono rivolte alla Chiesa trionfante Poscia che i fiori e l'altre fresche erbette all'impetto di me dall'altra sponda libere fuori da quelle genti elette sì come luce luce in ciel seconda vennero appresso lor quattro animali coronati ciascun di verde fronda Poscia ricordatevi sempre da latino postea dopo che i fiori le erbe fresche davanti a me dall'altra sponda furono libere fuori attenzione fuori che c'è troncamento sincope da quelle genti elette cioè da quei ventiquattro seniores ecco che come luce da luce in ciel seconda dunque luce lus lucis latino seconda secondare seguire quindi qui c'è una una similitudine e una metafora non ho scritto similitudine per quel che mi pare no non ho scritto similitudine questa similitudine è rappresentata da questo come no luce da luce invece una metafora perché sta per stella quindi come una stella in cielo segue ad un'altra stella quindi qui sono le luci dei ventiquattro vegliardi anche perché poi alla fine dirà che tutto attorno a questi personaggi tutto è suffuso di una luce splendente come se ci fossero delle aureole quindi come nel cielo a stella segue stella vennero dopo di loro quattro animali coronati ciascuno di verde fronda verde fronda latino fronx frondis fogliame queste allora qui ci sono tante cose da dire vediamo verde fronda innanzitutto è una sineddoche cioè il tutto per qualcosa di ben specifico si parla di fronda di fogliame ma questa foglia fogliame vuole rivelare l'alloro eternamente verde quindi non un fogliame qualsiasi quindi c'è una sinedoca poi questi quattro animali li prende probabilmente da Ezechiele e da Giovanni e questi quattro animali che sono presenti anche nell'Apocalisse dovrebbero essere in sintonia con le immagini passate 24 abbiamo detto e quelle che verranno dovrebbero essere i quattro Vangeli quindi dopo i primi 24 testi dell'Antico Testamento abbiamo i quattro Vangeli perché dunque questi stavo guardando lo vediamo poi dopo quali sono questi animali sono come vedete leone vitello uomo e aquila questi rappresentano la forza il leone secondo le teorie di allora l'animale più forte tra gli animali selvatici vitello più forte tra quelli domestici l'aquila la più forte tra i volatili l'uomo rappresenta l'intelligenza quindi leone vitello uomo aquila sono l'allegoria della forza dell'intelligenza e lo vedremo dopo laddove i Vangeli rappresentano la forza della parola che penetra e può essere penetrata solo dall'intelligenza l'ignoranza non può accogliere i Vangeli l'ignorante l'uomo ignorante non può accogliere il significato e la rivelazione del verbo ognuno era pennuto di sei ali cosa sono queste sei ali qui si possono soltanto fare delle ipotesi sono ali che vengono riprese anche queste dall'apocalisse allegoria forse forse delle sei leggi la naturale la mosaica la profetica l'evangelica l'apostolica la canonica oppure vi ricordate Paolo quando parlava di conoscere l'altezza la lunghezza la profondità e sempre in ogni caso sia le ali sia gli occhi rappresentano l'allegoria della conoscenza quindi questi animali abbiamo detto forza intelligenza sono i quattro vangeli essi attraverso le parole dirette di Cristo rappresentano una conoscenza infatti dopo si dice che queste penne erano piene d'occhi e gli occhi di Argo il cane mitologico se fossero vivi sarebbero così si presenterebbero in questo modo dunque questa conoscenza io penso che sia questa la soluzione migliore più che di parlare delle sei leggi è una conoscenza notate quella conoscenza che oggi proprio non c'è più cioè la memoria del passato la consapevolezza del presente e la preveggenza del futuro noi purtroppo nella nostra civiltà viviamo nell'eterno presente e di questo presente non siamo consapevoli perché la consapevolezza del presente si ha solo nel momento in cui si ha il ricordo del passato ecco allora che i vangeli hanno un significato ben preciso sono l'effetto la conclusione di tutta una rivelazione passata prima arrivata prima nei 24 testi precedenti su cui poi si rifletterà e darà ancora origine ad altri testi considerati canonici e ispirati che vedremo dopo da chi sono rappresentati vedete cioè qui non c'è soltanto allegoria qui non ci sono soltanto delle immagini un po' come nei nostri film alla giapponese dove ci sono mostri che sputano fuoco che fanno delle cose stranissime queste immagini hanno dei valori ben precisi e già prima ho detto dovessimo fermarci solamente a affrontare il significato dei doni dello spirito ci vorrebbe almeno un'ora quindi chi ha interesse se li va a cercare e si trova anche qui su con il mezzo di internet lo va a cercare in un'enciclopedia anche qui c'è tutto un discorso molto profondo che ci fa capire quanto sia importante non solo in una prospettiva di liberazione ma una prospettiva esistenziale quotidiana di aver sempre in mente la memoria del passato che ci insegna quante volte mi sono sentito dire ma tu ce l'hai sempre col passato e certo il mio passato personale quello dei miei amici dei miei parenti il passato che si rivela nella storia perché senza il passato io non posso capire il presente io non posso prepararmi per il futuro ad escriverlo al forme più non spargo rime lettori caltra spesa mi strigne tanto che a questa non posso essere largo dunque io non vi dico di più di questi di questi animali non spargo io non spargo rime rime è una metafora non spargo parole non dico più parole non dico altro su questi animali o lettore caltra spesa che altro impegno mi strigne da stringere mi preme no? e tanto e mi stringe a tal punto che non posso essere largo in questa cioè nel descrivervi questi animali per cui cosa invita a fare Dante? andatevi a leggere andatevi a leggere Ezechiele e Giovanni ma leggi Ezechiele che li dipinge come li vede dalla fredda parte a venire con vento e con nube e con igne ma leggi Ezechiele che non è il lupo dei tre porcellini è un profeta Ezechiele che li dipinge ripresenta come li vede arrivare da settentrione dalla fredda parte anche questa è una perifrasi e come ripresenta come vi ho detto prima leone vitello uomo aquila allegoria della forza dell'intelligenza venire tra il vento tra vapori densi tra il fuoco abbiamo oltretutto un polissindeto E E nube nubis latino massa di vapori densi e ignis anche questo è un latinismo che vuol dire fuoco e non basta e quali troverai nelle sue carte tali erano quelli salvo Calepenne Giovanni Emeco e da lui si riparte e come li troverai nel suo libro nelle sue carte anche qui ogni tanto perdonatemi ma me lo dimentico questo è un ammetto animia perché con carte si intende il suo libro quindi il mezzo per ciò che è espresso la materia oppure il contenuto per il contenitore tali erano qui salvo che le ali perché abbiamo detto che avevano sei vi ricordate sei ali invece Ezechiele ne presenta solamente quattro Giovanni Emeco Giovanni dice come me che le ali erano quattro e si riparte da lui e si discosta quindi da Ezechiele lo spazio lo spazio all'or quattro contenne un carro in sue due rote triunfale calcollo d'un grifon tirato venne allora dunque un carro contenne contenne lo spazio dentro a loro quattro lo spazio dentro a questi quattro animali lasciato libero è occupato da un carro carro e l'allegoria della chiesa triunfale in su due ruote le due ruote rappresentano il vecchio e il nuovo testamento che era tirato che venne tirato di nuovo un altro riperbato al collo d'un grifone grifone è un animale mezza aquila mezzo leone ritorna al momento di immagine di prima che ci parla di forza questa aquila quest'animale metà aquila metà leone è la metafora di Cristo in doppia natura la natura umana e la natura divina e adesso tendeva in su l'una e l'altra ale tra la mezzana e le tre liste si canulla pendendo faceva male esso cioè il grifone tendeva le ali in su l'una e l'altra delle ali le tendeva in su e queste ali si trovavano tra quella lista mezzana e le tre liste laterali che abbiamo chiamato stendardi in modo tale però che fendendo dividendole non faceva male a nessuna non in qualche modo sospendeva intralciava alcune di queste liste che abbiamo detto per la loro abbondanza nell'abbondanza dei doni dello spirito santo procedevano all'infinito tali che gli occhi di Dante non li potevano raggiungere tanto salivano che non erano viste le membre d'oro avea quanto era uccello e bianche l'altra di vermiglio miste tanto salivano che queste ali non erano viste e avea di nuovo accaduta dalla labiare le membra d'oro l'oro è il simbolo della natura divina infatti i magi offrono al bimbo Gesù oro che è il simbolo della regalità divina e in parte questo animale era d'oro in parte si presentava il colore bianco e rosso di nuovo si coglie si colgono questi colori dal cantico dei cantici laddove la donna innamorata chiama il suo sposo definisce il suo sposo col colore bianco e vermiglio ma lo definisce anche si richiama si rifà anche a loro in riferimento alla sua regalità Cristo diventa il nuovo sposo lo sposo della chiesa non che Roma di carro così bello rallegrasse africano ovvero augusto ma quel del sol lo sposo mai Roma ha celebrato mai Roma con un carro così bello ha celebrato scipione l'africano o ottaviano augusto ma dico di più lo stesso carro del sole sarebbe povero rispetto a quello è lo da il latino e riprende il racconto mitologico del sole no quel del sol che sviando fu combusto per l'orazione della terra devota quando fu giove arcanamente giusto sto parlando proprio di quel carro del sole che sviando dalla sua strada fu combusto da combustore e bruciare fu bruciato da giove per l'orazione oratio orazione in latino per la preghiera della terra devota anche qui abbiamo una metonimia cioè il contenuto il contenitore al posto del contenuto cioè stiamo parlando degli uomini a posto di terra devoti riprende di nuovo il significato di devovere devoto vuol dire che si offre alla divinità devoto agli dei quando giove fu giusto arcanamente arcanamente è un avverbio che vuol dire misteriosamente e vuole ricordatevi sempre che giove qui è sempre la metafora di dio sommo giove già più di una volta viene ripreso questo termine arcanamente può derivare da arca arca forziere chiuso questo arca forziere chiuso che ci vuole dare in metafora il senso della volontà divina che non sempre può essere capita incomprensibile all'intelligenza umana le mie vie non sono le vostre vie no? dice Cristo ma non è finita la processione tre donne in giro dalla destra rota venia danzando luna tanto rossa capena fora dentro al fuoco nota tre donne qui abbiamo l'allegoria delle tre virtù teologali fede speranza carità le tre virtù teologali ci dicono e ci rivelano i rapporti tra l'uomo e dio tre donne abbiamo detto venivano danzando in giro tondo dalla parte destra l'una era così rossa che a che nota appena sarebbe dentro al fuoco era così rossa che se fosse stata dentro al fuoco sarebbe appena stata notata ricordiamo nuovamente questo fora col valore di sarebbe da fora te latino iperbato per la costruzione abbastanza complessa la rossa è la carità si brucia di carità è la metafora del sangue che è disposto a dare la propria vita per il proprio fratello e la carità che si sublima sul legno della croce per redimere gli uomini l'altra era come se le carani e l'ossa fossero state di smeraldo fatte la terza parea neve testa e mossa l'altra era come se fossero state le sue carde le sue ossa fatte di smeraldo verde ed è una similitudine l'ho dimenticata è una similitudine similitudine perché viene paragonato il colore allo smeraldo la terza invece pareva di nuovo la caduta della labiale neve neve mossa testè cioè non neve calpestata ma neve fresca e mossa cosa ci si trova di sotto un bianco un bianco splendente verde e bianco dunque rappresentano la speranza neve invece la fede però come si muovono attenzione che è molto importante perché un pensiero presente in Paolo fede speranza carità sono più importanti tutte e tre ma la fede e la speranza verranno meno la carità non verranno in meno e quindi fede e speranza per essere tali devono essere guidate dalla carità che è la prima il primo comandamento il più importante e or parean dalla bianca tratte or dalla rossa e dal canto di questa l'altra toglievano l'andare e tard e rate c'è un privato parean nuovamente caduta dalla labiale traere vuol dire tirare guidate ora sembravano guidate dalla bianca vestita di bianco dalla fede ora dalla rossa dalla carità e toglievano il loro stile il loro movimento l'altra toglievano dal canto di questa cioè di quella rossa il loro movimento l'andare o tardo o lento tardus lento poi ratte da rapere raptus veloce tutto viene quindi scandito dalla come ho detto prima dalla virtù teologale scusate sì dalla virtù teologale che della carità dall'altro lato abbiamo le quattro virtù cardinali dalla sinistra quattro facevano festa in porpore vestite dietro al modo l'una di lor cavea tre occhi in testa prima capiamo il significato dalla parte sinistra ne facevano festa altre quattro fanciulle vestite di porpora vestite di rosso dietro all'esempio il modus regola misura esempio dietro all'esempio di una di loro che aveva tre occhi in testa di nuovo gli occhi il tre poi il simbolo di perfezione gli occhi ci danno il segno della conoscenza allora perché vestite di rosso perché le virtù cardinali che sono queste prudenza giustizia fortezza temperanza devono essere guidate dalla temperanza la temperanza è il giusto mezzo no? il saper cogliere il giusto mezzo ma ed ecco qui è questione di conoscenza di sapienza senza debordare oggi c'è chi fa il bene o crede di fare il bene ma esagera o da una riva o dall'altra e molto spesso il bene si trasforma in male ma tutto deve essere regolato da qualcosa di ancora più profondo cioè dalla carità infatti queste sono vestite di porpora di nuovo i tre occhi in testa conoscenza del passato del presente del futuro memoria del passato conoscenza del presente e previdenza prevedere il futuro mi viene sempre voglia di fare della polemica ma quando noi nell'amministrazione della cosa pubblica ci ricordiamo degli errori passati cerchiamo di conoscere profondamente i fatti presenti per poter provvedere prevedere e provvedere le cose future e quindi prevedere prevedere e provvedere ai nostri figli e ai nostri nipoti a me pare proprio che queste cose oggi non capitano perché perché c'è l'arroganza di imporre sempre e soltanto noi stessi noi siamo il primo posto ovunque e sempre invece le virtù cardinali la stessa giustizia la fortezza la prudenza devono essere guidate dalla carità e dalla temperanza appresso tutto il per trattato nodo vivi due vecchi in abito dispari ma pari in atto e onesto sodo allora appresso ritorniamo mi pare di averlo già fatto da primo appresso un premere contro quindi uno vicino all'altro tutti nodus da latino nodus vuol dire raggruppamento di corde quindi dopo per trattato tutto il per trattato nodo tutto questo gruppo di persone questo raggruppamento di persone per trattato che ho trattato adesso dei minimi particolari vidi due vecchi in abito dispari ma pari in atto e onesto sodo due vecchi qui abbiamo Luca e Paolo dispari da dis pari non uguali due caratteri due stili differenti Luca è l'autore degli atti degli apostoli ma pari uguali perché entrambi integri e sicuri vedete un estus integro solidus sicuro notate sempre la posizione dei vecchi oggi i vecchi o vogliono liberarsi da ogni preoccupazione e hanno altre cose per la testa oppure vengono in qualche modo scartati il vecchio qui ha un significato molto preciso è vicino alle gioie alla voglia di vivere alla spensieratezza alla insomma di queste fanciulle che cantano che ballano e rappresentano le virtù teologali e dello spirito umano i vecchi e col passato il presente e futuro i vecchi rappresentano una esperienza ed ecco perché i libri del nuovo e dell'antico testamento vengono qui in allegoria rappresentato da vecchi vediamo chi sono questi due vecchi l'un si mostrava al ponte familiare di quel sommo ipocrate che natura agli animali fe che è la più cari l'uno di questi qua stiamo parlando di Luca che era dottore era medico si mostrava uno dei familiari di quel sommo ipocrate una perifrasi uno di questi era medico ipocrate il quale la natura diede quel fe fece con sincope agli animali che ha più cari che la natura quindi donò agli animali che ha più cari e una perifrasi e sta agli uomini quindi l'uno era un medico come ipocrate che natura ha donato agli uomini l'altro invece stiamo parlando di Paolo quindi tutte le lettere Paoline mostrava l'altro la contraria cura perché contraria beh leggiamolo prima mostrava l'altro la contraria cura con una spada lucida aguta tal che di qua dal rio mi fe paura l'altro mostrava una preoccupazione è un latinismo anche questo preoccupazione contraria perché là il medico sana qui invece con una spada lucida e la lingua di Paolo quindi una metafora con le parole Paolo colpisce e quella spada mi fece paura fece una sincope io che ero sebbene nonostante tutto al di qua del rio latino rius al di qua del lete poi vedi quattro inumile paruta quindi altri quattro personaggi e di retro da tutti un vecchio solo venire dormendo con la faccia arguta oh qui c'è un problema secondo me perché i quattro inumile paruta che da pareo no d'aspetto umile e sono le quattro lettere le lettere dei quattro altri autori del nuovo testamento cioè Giacomo Pietro Giovanni e Giuda qualcuno però io lo capisco capisco perfettamente la ragione dato che di retro da tutti c'è un vecchio solo venire dormendo con la faccia arguta era presente a Giovanni che ha scritto l'Apocalisse qualcuno vede un doppione dice ma Giovanni è già qui e lo troviamo di nuovo qui allora qualcuno ha pensato di proporre i più grandi dottori della chiesa di allora Gregorio Girolamo Ambrosio Agostino però mi pare che sia una qualcosa che non vada bene perché in questo modo vengono meno alcuni libri in questo caso delle lettere di tutta la Bibbia non sarebbero nominati né Giacomo né Pietro di Giuda noi dobbiamo però intendere che qui non abbiamo a che fare con degli uomini è un'allegoria e Dante l'ha capito benissimo anche se oggi qualcuno vuole leggere queste cose e anche nell'Apocalisse senza capirci niente l'ha capito benissimo e quindi ripete Giovanni non perché ci sia un altro uomo non perché Giovanni si sia sdoppiato in due ma perché Giovanni lo ricordiamo per le sue lettere assieme a Pietro Giacomo e Giuda e poi Giovanni lo ricordiamo per l'ultimo libro della Bibbia che è l'Apocalisse quindi io lascerei perdere questa interpretazione di questi quattro dottori della Chiesa che secondo me non ci stanno dentro di retro questo vecchio solo Giovanni venire dormendo mentre sta dormendo perché l'Apocalisse è un libro che è frutto di una sua visione di una sua lunga visione con la faccia arguta facies l'aspetto l'arguere è aspetto penetrante perché coglie riesce a cogliere nelle immagini un messaggio che va al di là dell'immagine stessa e questi sette col primaio stuolo erano abituati ma di gigli d'intorno al capo non facea un brolo anzi di rose ed altri fiori vermigli giurato avria poco lontano aspetto che tutti ardesserli sopra degli gigli e questi sette erano abituati con lo stuolo primaio che cosa vuol dire allora stuolo da stuolo struppo a gruppo è un termine militare che però poi nel tempo viene ad avere il significato di gruppo erano abituati da abitus abituare a avere lo stesso abito quindi e questi sette avevano lo stesso abito dei primi del primo gruppo cioè erano vestiti anch'essi di bianco ma non facea un brolo di gigli intorno al capo brolo cos'è il brolo dal latino basso vuol dire boschetto che poi qui può in forma metaforica diventare corona di fiori facea è un troncamento è una caduta della labiale e poi abbiamo già fatto la costruzione per questo iperbato ma non avevano quindi una corona di gigli intorno al capo l'avevano di rose e di altri fiori rossi anche qui il rosso alla precedenza perché vicino alla purezza del messaggio biblico abbiamo il rosso che è l'espressione della carità l'amore di dio si rivela attraverso la parola c'è un altro dato avrei giurato avrei giurato che tutti ardesser di sopra dagli cigli poco lontano aspetto quindi per l'aspetto quindi aspetto sospiciovista per l'aspetto non lontano ce l'aveva davanti tre passi di distanza abbiamo detto avrei giurato che tutti sopra i cigli è una metonimia quindi una parte per il tutto sopra la testa ardessero tutti di una particolare luce e quando il carro a me fu arrimpetto un tuon su di e quelle genti degne parvero averla andare più interdetto fermandosi i vie con le prime insegne allora e quando il carro fu dirimpetto a me notate latino re più in più pectus vuol dire contro più verso il petto quando erano di fronte a di me di fronte al mio petto si udì un tuono ricordatevi il tuono che è una metafora il tuono più di una volta specialmente nell'antico testamento rappresenta Dio vuole rivelare la presenza di Dio e quelle genti che io ho appena elencato sembrarono aver interdetto il loro andare sembrarono che si fossero fermati proprio per volere divino anche perché sul paradiso terrestre non c'è quell'atmosfera che ci può parportare a pioggia neve che ne so nebbia eccetera quindi quel tuono è da riferirsi proprio alla volontà divina anche questa è una allegoria cioè la chiesa trionfante si ferma lì perché si ferma lì perché prima è andato incontro a Dante che rappresenta l'umanità peccatrice ma in qualche modo purificata quindi pronta sempre ad aprire le sue braccia al peccatore che si pente e poi si ferma e parla al suo cuore e a questo punto iniziano delle rivelazioni che vanno al di là della ragione non sono contro la ragione come qualcuno vuole dire vanno al di là della ragione perché la ragione può fare tanto ma può arrivare solo ad un determinato limite al di là può arrivarci solamente la fede